Vediamo anche le immagini del corteo di sabato, perché noi siamo abituati, Alan Rizzi parto da te questa volta, siamo abituati tutti i sabati a vedere questo corteo che attraversa la città. Sempre il sabato pomeriggio, blocca il traffico, blocca i negozi, poi dopo nella seconda parte ci colleghiamo anche con i commercianti che non ne possono più, perché poi anche il lavoro, loro hanno dei problemi anche per già la ripresa è difficile per di più. E' vero che la protesta è sempre legittima, però questa protesta reiterata ha qualche significato, Rizzi? Io sono d'accordo con i commercianti, sono d'accordo con quelli che ritengono sia opportuno ed è sicuramente la maggioranza della necessità di ritornare alla normalità e quindi tu giustamente hai ricordato che la protesta è sempre legittima e ci mancherebbe altro. Quando è pacifica. Guai invece a sostenere il contrario, però diciamo che questo non è il caso probabilmente, quindi ci sono tanti cittadini, in questo caso tu stai facendo vedere le immagini del corteo di Milano, che quel giorno avrebbero voluto uscire di casa per magari andare in qualche ristorante a prendere l'aperitivo o a fare delle compere e non hanno potuto farlo perché si sono trovati in mezzo ad una serie di difficoltà. Quindi io da questo punto di vista dico che già durante il primo lockdown, durante le grosse difficoltà della pandemia, che sono ancora oggi non più attuali come prima, ma comunque sono abbastanza significative, c'è la necessità di tornare alla normalità. Abbiamo visto che i dati stanno andando nella direzione di quelli che premiano chi si è voluto vaccinare, giustamente perché io penso che questo sia soprattutto un dovere civico. Io posso essere contrario o non essere totalmente a favore, ma lo dobbiamo. Per i tanti morti che questa regione, che questo Paese purtroppo ha dovuto piangere in questi 20 mesi, lo dobbiamo a quelli che hanno sofferto, non dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a quello che può produrre all'interno del nostro corpo il vaccino, ma soprattutto per rispetto nei confronti degli altri. Perché noi abbiamo saputo in questi 20 mesi che non abbiamo manifestato il virus perché non abbiamo i sintomi, non abbiamo la febbre, siamo asintomatici, abbiamo imparato a dire, ma possiamo trasmettere il virus. Quindi nel rispetto della libertà degli altri, noi, io e tutti gli altri, abbiamo deciso di vaccinarsi. Questo è il percorso. I cortei da questo punto di vista, come ho detto prima, non contribuiscono a far ritornare la vita alla normalità. I cortei no green pass che bloccano le attività urlando libertà, libertà, non è un controsenso, Carmela? Assolutamente. Loro dicono libertà, poi però impediscono libertà. Ah, sono assolutamente d'accordo con chi ha scritto quel messaggio. Non solo, non capisco di quale libertà parlano, perché dopo quello che abbiamo vissuto, noi abbiamo il dovere di dare, di creare tutte le condizioni perché il paese riparte economicamente, riparta bene e perché non ci si fermi più. Secondo, in questo paese il vaccino viene fornito gratuitamente e chiunque vuole vaccinarsi si può vaccinare. Non ti vuoi vaccinare, puoi non vaccinarti e ti fai il tampone. Ecco, però attenzione, perché la cosa del tampone, sono in tanti a dire che di fatto il tampone crea una discriminante tra chi ha più soldi e chi ne ha meno. No, a casa mia non ne crea nessuno discriminante, perché se uno vuole… Per quello di pagare, per quello. E' certo che è giusto, sapete quanto costa pagare i tamponi al paese? Quelli rapidi, la farmacia paga, li pagano 15 euro. No, no, ma il conto finale, se lo facessimo per tutti, per tutto il paese, stiamo parlando di un miliardo di euro. Adesso, scusate, tu vuoi la tua libertà di non vaccinarti? Ti viene assicurata. Tu non puoi avere la libertà di infettare gli altri. E non posso io che pago il vaccino gratis, perché quel vaccino gli italiani lo pagano con la fiscalità generale. Ora, siccome qua non c'è nulla di… Allora, per me quelle proteste sono irrazionali e mi dispiace, lo dico a tutta la gente che non vuole farsi il vaccino perché ha paura, che va lì e si fa strumentalizzare. Degli anarcho, ammesso che siano anarchici… Eh, ci sono anche questi 40 anarchici. Personalmente, ma per carità, non riesco ad attribuirgli… Per me la parola anarchico è una parola importante, positiva, non negativa, perché questi non sono anarchici. Perché io non ho visto questa gente protestare ogni sabato per i morti sul lavoro. Io non ho visto i portuali di Trieste bloccare il porto per i morti sul lavoro. No, no, loro protestano contro il vaccino e contro il Green Pass. Invece protestano per che cosa? Per un problema loro personale, che invece di attivare il cervello e magari riuscire a consultarsi, poi passano personaggi come questo, a consultarsi con gente che ne capisce per capire e risolvere i propri problemi, le proprie paure, vanno dietro a personaggi assolutamente risibili, i quali hanno trovato la piazza per il loro protagonismo e diventano attori principali e gli altri che stanno lì a urlare con loro diventano lo strumento che usano questi attori. Però ho capito, però nel frattempo spero che il nostro ospite riesca a collegarsi. Adesso gli mandiamo un tutorial. No, Rizzi, c'è una cosa però, un'osservazione che viene fatta. È vero, i tamponi è giusto che ve li paghiate. Tu sei d'accordo che vengano pagati i tamponi per cui non vuole vaccinarsi? No, perché se mi dici di no, la mia seconda domanda non ha più senso. Ma io dico un'altra cosa, dico che per essere certi nel momento in cui il Green Pass, io trovo giusto che ci sia un percorso che preveda la certezza che il virus non circoli. Per esempio, due settimane fa sono dovuto andare a Dubai per presentare... Non era in vacanza, era per presentare Expo. A parte che l'ultima vacanza neanche me la ricordo. No, probabilmente andare da un'altra parte, non a Dubai. Però abbiamo presentato Innovation House e per andare ho dovuto fare il tampone. Oltre al vaccino che tu hai già fatto. In uscita e in entrata. Poi il volo Covid test, per quanto riguarda me, non ho dovuto fare l'altro tampone ulteriore appena arrivato a Malpensa perché avevo il certificato, il Green Pass. Io dico questo, oggi tu la certezza ce l'hai se vai in una determinata direzione. Quindi tu dai il Green Pass temporaneo a chi fa il vaccino, scusa, a chi fa il tampone temporaneo. Ecco, quindi questa è la garanzia. La garanzia è che il virus non deve circolare. Poi se si sceglie una strada piuttosto che un'altra, ripeto, nella interpretazione generale, visto che il vaccino è gratuito, infatti il vaccino, così non hai bisogno di spendere tutti questi soldi per fare il tampone. La provocazione è un'altra. Se è vero, il tampone è un altro modo per essere sicuro di non avere il Covid. Va bene, però l'obiezione che viene fatta è, se io guadagno 3.000 euro al mese, pagarmi 15 euro ogni due giorni non mi pesa tanto. Se ne guadagno 1.200 mi pesa di più. Ti fai il vaccino. E quindi il tampone diventa una cosa per ricchi. Questa è l'obiezione che mi è stata fatta. No, però ti fai il vaccino. Si, però in ogni caso fare un vaccino ogni due giorni lo paghi. Faccio un esempio, così ci capiamo. Se ho l'aria condizionata vivo meglio. Si. Però... La paghi? La pago. Quindi, siccome non me la posso permettere, non ce l'ho. È una discriminazione? No. È una discriminazione? No, però è un piacere della vita avere il fresco. È una sopravvivenza quando c'è certe temperature. Qualsiasi esempio noi facciamo, per esempio, così, non vedo però le piazze piene. Si. Se devo fare un esame specialistico, ho una lista d'attesa di 6 mesi, 8 mesi. Però vado privatamente e me lo pago. E scusate, è discriminato quello che aspetta 8 mesi. Ho capito, tu rispondi così. Abbiate pazienza. Mentre il vaccino è gratis. Ed è pagato dalla fiscalità generale, se tu che hai scelto di non usare quello strumento, ti paghi lo strumento che dici sull'usare. Ok, tutto chiaro. Pubblicità, finalmente una donna che dice la verità su queste manifestazioni, volete fare i tamponi, pagateveli. Brava Rozzo, aspetta, che è questo qua. C'è un ammiratore.